Scelga lei il vincitore dell'Isola dei Famosi, Vladimir Lussuria o il Bidello Carlo? Non so chi sia il Bidello Carlo, quindi Vladimir Lussuria. Al cinema meglio Nanni Moretti o Massimo Boldi? Massimo Boldi. Meglio Boldi di Moretti? Sì, sì. Almeno Boldi fa ridere. Deve fidanzarsi per forza, con una ragazza o con un comunista? Con un comunista, tanto prima o poi lo ridimo, non c'è problema. Magari anche la ragazza. Dica una cosa che non le piace di Berlusconi. Ma tante. Ne ne dica una. Non glielo saprei dire in questo momento, ma insomma ce ne sono tante. Berlusconi ha grandi difetti, così come ha grandi pregi. Un difetto, lo dica. Una cosa che ha fatto non le è piaciuta. La tintura dei capelli. Il lifting. Guarda, io su queste cose ho mio padre con tutti i capelli bianchi, per cui se fosse stato mio padre gli avrei detto di lasciarli bianchi. Per cui su queste cose sicuramente non sarei stata d'accordo se mi avesse chiesto un parere. Amici ascoltatori, colpo di scena. La signora Longari, che stava per vincere, purtroppo termina a meno uno ed è eliminata. Ciao! Ciao! Ciao!